Start, 2, 1, initial mission and liftoff! L'avremmo visto durante una live, un'oretta, un quarto, un'ora e venti, non ricordo, il gioco era in inglese, è in inglese tuttora, ma di che cosa si tratta? Si tratta di un simulatore, un gioco di ruolo, insomma un simulatore di campagna, diciamo, dove noi gestiamo dei mercenari nelle nostre avventure, che ci porteranno a esplorare foreste, villaggi, antiche miniere, scrivendo la nostra storia. Io non ricordo se il gioco fosse già coop ai tempi dell'early access, comunque sappiate che secondo me potrebbe dare tanto anche dal punto di vista del cooperativo, giocandolo fino a 4 persone, ognuna con il suo gruppo di mercenari, con la possibilità di condividere risorse e denaro. Lo iniziamo dall'inizio, la grafica dovrebbe essere anche un po' cambiata, possiamo scegliere il nostro destino, quindi si può iniziare, i miei compagni sono e da qui ci dà delle differenze, ad esempio amici apprendisti che cercano un'avventura. Analizziamo anche il livello d'inglese, insomma, influenza più 30, materiali grezzi meno 5. Iniziamo con swordman, quindi uno spadaccino, un acere, un arranger, un brute. Manasker, merchant, lost their employer. Praticamente uomini che scortavano un mercante che sono rimasti senza il loro capo. Soldi 150, quindi c'è sempre il loro soldi, medicini meno 2. Abbiamo uno spadaccino, un guerriero, un lanciere, un bruto. Disertori che sono fuggiti da un capitano abusivo, magari tiranno, insomma. Abbiamo più romatili, siamo più sospetti, abbiamo uno swordman, lo spadaccino, un guerriero, un acere, un arranger. Giovani coltivatori che cercano una vita migliore, questo è interessante. Hanno pane P10, felicità meno 2, brutto, sperma, sperma, nacea. Mi sembrano un po' più scappati di casa, giustamente. Banditi che cercano di fuggire alla guardia. Abbiamo, come oggetti, perché possiamo anche rubare, oggetti rubati, due polli bruciati e brustoliti e sei di clot. Abbiamo brutto, no. Mi ispira questi, che hanno tanti soldi. Uomini che sono fuggiti. Ok, abbiamo 3 carte da fare. I tuoi compagni sono soliti fare lunghe camminate. Riduci la velocità. Ok, si affaticano meno. Arcane Fighter guadagnano più esperienze di combattimento. Mostrano una incredibile resilienza. La costituzione è più di 10%. Sono eccellenti agli slap game. Cioè praticamente per andare a sberdo la gente, insomma. Danno critico più di 10%. Possono vendere qualsiasi cosa a chiunque. Faccio questa. Anche se in realtà, no. Facciamoli eccellenti a menare le mani. Se... If they had a flow... Flow non so cosa sia. Sembrano esili. Eterna soddisfazione. Ah, se avessero un difetto sarebbe che sembrano, diciamo, degli stecchini, insomma. Quindi portano il peso di meno uno. Eterna insoddisfazione riducono la felicità di uno ogni riposo. No. Un'in... Non comune botta di culo. È critica di interridotto del 3%. No, è di sfortuna. Scusate, non di fortuna. Botta di sfortuna. Molto tempo per rialzarsi. No. Che cosa hanno di... Portiamo meno uno. Dai, siamo tutti esili. Perfetto. Allora, molto interessante questa cosa perché ci fa fare una scelta tra una esplorazione adattiva e la difficoltà di tutte le regioni si adatta dinamicamente al vostro gruppo. Dimensione e unità. Il gioco offrirà sempre una sfida adatta al tuo gruppo. Qui e questo può andare bene per qualcuno? Probabilmente per me no. Ogni regione invece con Legion Locked Exploration mi fa le regioni già predefinite in base alla difficoltà. Che almeno ci fa un pochino avere un po' le soddisfazioni della nostra crescita, credo. Quindi faccio questo. A livello di difficoltà facciamo tutto medio. Perché c'è il combattimento, la difficoltà di combattimento, di sopravvivenza e di modalità di salvataggio. That's it. Abbiamo il Bruto, lo Spearman, il Warrior e lo Swordman. Appartemente abbiamo un combattente, uno spadaccino. Possiamo personalizzarli, quindi andare a modificargli l'arma iniziale e l'utility. Che ognuno ha un oggetto. Un tratto casuale, possiamo dargli. E un tratto positivo. Quindi facciamo a caso, così almeno vediamo. Velocizziamo un po' perché ci buttiamo subito nel gioco. Graficamente è molto carino. E è fatto bene. Allora, di base mi verrebbe da dire non è il gioco della vita. Però per qualcuno potrebbe esserlo. Quindi dipende. La vita di un mercenario non è mai facile. Dopo uno scontro accaldato con i banditi, i più opportunisti dei tuoi companion sono fuggiti lasciando dietro un pagamento generoso e un cliente furioso. Vabbè, e questo è l'inizio, quello che abbiamo visto. Graficamente è così. Graficamente è molto carino. E la cosa interessante è che... Praticamente, vabbè, con i vediamo l'inventario. Vedete che tutto quello che vedete al nostro seguito è quello che noi possediamo. Cioè, qualora avessimo avuto due o tre cavalli, li avremmo visti anche lì. Abbiamo dei borsaioli, quindi combattiamo. La base, il full del combattimento è a turni. Quindi abbiamo la possibilità di combattere. Quando il nostro turno arriva, puoi trovare nemici che arrivano. Ok. E abbiamo i nostri soci qui. Io non mi ricordo molto di come si combatte, comunque... Posso spostarli in vari punti, in modo... Non ho combattimento a distanza. Però quello col fuoco non lo metto dietro, che mi sembra un pochino più... Questa è la ritirata. Ok. Questo è il campo di battaglia. Ok, bisogna subito uccidere il tizio lì. End of Tortoise. Non posso passare il turno? Ok. Ok. Ah, ok. Allora, Slice. No. Posso fargli fare il movimento? Ok, perfetto, adesso ho capito. Ho perso probabilmente un turno. Poi lo faccio correre direttamente là. Tortoise ha già bruciato il turno. Ok. Purtroppo dovevo cliccare. Lo attacco alle spalle. Anche perché il fiancheggiamento è molto, molto utile. Adesso io attacco. E in live mi era capitato anche di finire su delle trappole. Quando fai un attacco corpo a corpo su un nemico libero, tu lo ingaggi. Un'unità ingaggiata può solo attaccare il suo opponent, il suo avversario ingaggiato. E ha una grande possibilità di prendere un danno critico. Ok. Un'unità ingaggiata. Esporre la sua schiena. Ok. Infatti non funziona, ma funziona adesso. Ok. Quindi Antic. Posso muoverlo? No. Passo il turno. Ok. Ci ha fatto male. Ci ha avvelenato. Ma lui può andare e fargli... No. Lui potrebbe andargli alle spalle e fargli del paiolo con una bastonata che se la dimentica. Ma non fa la rotazione. Ok. Perché loro hanno due barre. La barra della vita e la barra dell'armatura. Adesso tu potresti... No. Passa il turno. Tu potresti andare a fare il movimento e andare qui. Tecnicamente potresti attaccarlo. Potevo andare dall'altra parte in effetti, però va bene, dai. Mi hanno quasi ucciso quello. Primo scontro facile, ve lo concedo. Lui può muoversi ancora, ma non si muoverà. E ci ha spinto indietro. Però credo che... Novo Round. Posso muovere prima con questo? Sì. Faccio andare qui. Vediamo se mi fa l'attacco di proteine. No. Però si giro, giustamente. Però faccio dare le spalle a tutti. Ok. Quindi ha fatto molto male. Non abbiamo attacchi a distanza, però. Ci ha controbattuto, però. Disengage. No. Possiamo anche caricare. No. Passo il turno. Tu attacchi ancora le spalle. Anzi, potrebbe avere Varat. Fa... Lui ha meno del 50% di vita. Sì. Proviamo questo attacco qui. Mamma mia che ha fatto tantissimo male. E può ancora attaccare. Che violenza. Che violenza. E si sono galvanizzati tutti. Molto interessante. Adesso passo il turno. No, ma perché gli altri? Me la sto giocando un po'. Ma... No, ma non è regolare. Penso ci sia una sorta di iniziativa da rispettare. Dunque questo non può fare niente. Non lo può attaccare. Quindi passiamo il turno. Anche First Aid. Ma non ne ha bisogno perché ha rotto solo l'armatura. Muoviamo gli altri. Anche qui è molto importante avere dei parametri... Diciamo comodi per il movimento perché... Vedete che ci metteva una vita ad arrivare là. Intanto l'altro lo sta combattendo. No, lui passa il turno. Antrich. E Antrich non può fare altro. Ah no, sì. Può muovere perché... Perché è passato il turno. Ok. Attaccalo. Vediamo che abilitare. Run. Ah, non va a corsa. Ma non può attaccarlo. Ah, era qui. Che bambù che sono. L'ho confuso. Ho sempre dei problemi a riconoscere le persone. Comunque ha fatto molto male. Ma non è finita perché... Passiamo il turno. Lui alle spalle lo può riempire di botte. Quindi vieni qui alle spalle. Lui è ingaggiato. No, adesso è ingaggiato dall'altra parte. Si è disingaggiato. Però ha fatto una gran brutta fine anche lui. Partiremo con il loot adesso. Dove prenderemo tutto. Abbiamo trovato... Resti umani. No. Prendo del clot. Ah, scusate. Doppio clic. Ah, vabbè. Lo lasciano inventare direttamente. Un po' la diablo. I corpi onestamente non li prendo perché... Non lo so. Comunque qua abbiamo qualcosa da prendere. Pick up. Abbiamo preso delle erbe. Molto bello il fatto che comunque c'è la mappa, come abbiamo detto. Ci sono quest da fare. Ci sono punti di domanda. Un mondo intero da esplorare. Ad esempio, vedete che cosa c'è la torre là? Dove c'è la torre là? Potrebbe esserci una prova da svolgere. Questi chi sono? Sono dei bandete. Ma io non... Noi non volgiamo i banditi. Quindi ci spostiamo e facciamo... Lì raggiriamo. Adesso stanno pattugliando la zona. Ma va bene. Potremmo anche attraversare il boschetto della mia fantasia. Andiamo più lentamente qui. Tra l'altro qua dovremmo tecnicamente consumare anche delle erazioni. Passa il giorno. Qua in alto abbiamo... Ogni regione ha il suo stesso scenario. Ah, spiegazione di attraverso la torre. È una prigione. Ok, qua possiamo fare... Ispezionare qualcuno e vedere le sue statistiche. Melagna. Possiamo parlare. E parlando a qualcuno possiamo commerciare o addirittura a rubare. Quindi possiamo... Andorra, prisione. Ok, se gli diamo un prigioniero ci pagherà. Questo chi è? Lo ispezioniamo. Gli parliamo. Possiamo reclutarlo per 72. Sarà un nuovo mercenario. Possiamo dargli nuovamente un'occhiata e vedere e reclutarlo. Potremmo reclutarlo. Però ci costerà sicuramente di più. Lo reclutiamo. Alla prigione. C'è anche questo? No, ci costerà di più questo. Niente, andiamo via. Ok, siamo arrivati qua alla prigione. Tra l'altro, qua in alto vedete che... Allora, qua c'è la conoscenza. Ci aiuta a scoprire nuove ricette. Pattern delle ricette. Bel compendio. E praticamente abbiamo la possibilità di imparare nuove conoscenze, workshop, quindi a craftare cose. Che qua è molto interessante perché, come avevano detto anche alcune recensioni, ricorda tantissimo un gioco di ruolo. Perché qua abbiamo, questo non so cosa si chiama, penso un amo da pesca, ma qua abbiamo un picchetto e un lockpick. E usando queste risorse le possiamo craftare per poi usarle all'occorrenza in qualche situazione. Qua abbiamo... Ogni regione diceva il suo scenario e puoi seguire i progressi qui. E qua è il sospetto che abbiamo, quindi se ci beccano a rubare e cose del genere. Possiamo fare un camp, possiamo vedere l'inventario, che è quello che abbiamo visto. Possiamo vedere la mappa, che è la world map che abbiamo visto prima, con le location scoperte, le location completate. E questo fa sempre parte dello scenario. Il compendium è quello che abbiamo visto prima, con le abilità e il crafting. E qua abbiamo i pets, che non so cosa siano. E qua praticamente sono dei talenti, dei achievement da fare. Quindi come cacciatore di taglie, magnanimus abbiamo... Permette ai dieci nemici di fuggire, insomma non so cosa ci danno effettivamente. Un pipì, ok. Un punto da spendere da qualche parte, credo. Quindi interessante. Potremmo, dato che non ci siamo riposati, accamparci qui. Vedete che hanno tutti, without a profession. Abbiamo il pony. E possiamo spostarlo, ma vabbè. Workshop. Quasi crafta. Use. Possiamo farlo usare a uno di loro e scegliergli una professione. Possiamo farlo tinker. Lui può fare... No, possono fare solo tinker, perché non hanno altre conoscenze, credo. L'ultimo che abbiamo reclutato può fare qualcosa? No? Tinker. Tutti tinker. Stegnini. L'ultimo che abbiamo preso, chi è? Uno swarman livello 2? No, che non l'avevamo già, non mi ricordo più chi è. Vabbè, viene usato tinker. E può craftare queste cose. Le torce. I picchetti. Gli anelli da scalata, insomma, le corde. Usando delle fibre. Usare una tenda, camping gear. Cioè, si può fare o anche smontare la roba. Interessante. Shift più place, inventare. No, usa. E possiamo cucinare un pasto. Ma non lo abbiamo, quindi... Inspect. No, lui sta bene. Possiamo ispezionare ognuno di loro. E ce ne sono due che hanno l'armatura un po' rotta. Tecnicamente, però, potrei usare... Non cucinare, scusate, ma mettere all'interno. Vedete che scende la soddisfazione. Livraiamo anche un po' la dieta. Qua mangiano bene. Magari anche un po' troppo. Ok. Livello di pericolo. Nessuno riposo. Non abbiamo paghe da pagare. Perché, ovviamente, i nostri mercenari vanno anche stipendiati. Quindi, tecnicamente, ci siamo riposati bene. Abbiamo guadagnato più due di questo, che non so cosa sia. Che sono i valor points, ok? Possiamo usare l'incombatimento per usare certe skill. Li riguadagni ogni volta che ti riposi. Perfetto. Qua abbiamo cibo per due giorni. Abbiamo influenza di 28 e felicità. Ok. Le tre truppe hanno... Ok. Dato che... Dato che il cibo sta finendo, dobbiamo andarcene. Quindi, devo capire adesso come si esce dall'accampamento con ESC. Mi scusi, siete dei mercenari? Per tutti gli occhi che guardano. Che roba. Non penso che sarei sopravvissuto un altro giorno. I banditi hanno attaccato la mia caravana. Sono l'unico che ce l'ha fatta. Stavo cercando di raggiungere Storm Cup. Per due giorni ora. Ma sono disarmato. E con questi lupi intorno non ho speranze. Ti darò tutto quello che sono in grado di darti per... Se mi porti a... E andiamo. Ci dà 15 monete. Per portarlo a Storm Cup. Tra l'altro è là. La città è là. Quindi lo potremmo portare là. Classica avventura. Ovviamente non abbiamo cavalli. Abbiamo solo un pony. Ci aumenta un po' il peso trasportabile. Però possiamo andare in città. A me... Onestamente fa sognare tutto questo. Il viaggio, la mappa, la visuale fatta così. E mi ricorda proprio i D&D. Cioè non... È la trasposizione di quello che ho sempre sognato. L'avevo già fatto in live, ripeto. Però non ci avevo dato troppo peso. A questa meccanica qui. Perché il gioco è veramente bello. Costa tanto. Perché 35 euro. Magari poi sui siti che trovate qua sotto nella descrizione. Magari lo trovate a meno. Quindi c'è un mercante. Ok. Siamo arrivati a Storm Cup. È un mondo vivo. Stiamo esplorando. Arriviamo a Storm Cup. Perché tecnicamente possiamo parlare al mercante. No? Ma scusate. Ma se... Siamo arrivati in città. Andiamo in taverna. Ed è la visuale così. Questo è l'informatore. Possiamo pagare per delle informazioni. Ci chiedono influenza. Non soldi. Possiamo anche rubarle le informazioni. No. Volevo... L'emissario. Stiamo cercando lavoro. E qui ci sono le quest da fare con la difficoltà. Ricorda un po' quel gioco anche di Low Magic ecco. Di cui avevamo parlato tempo fa. Con la traduzione in italiano. Poi magari arriverà tradotto anche questo. Non lo so. Al momento onestamente non è... Non stiamo parlando di... Non so. Un Divinity Original Sin. Un Pathfinder con miliardi di righe di testo. Cioè... Town Hall. Questo è il sindaco. Possiamo parlare anche col sindaco. Siete mercenari. Non accettiamo gentilmente i rifugiati. Va bene. Arrivederci. Cosa possiamo fare in casa del sindaco? Niente. Exit. Allora. Qua abbiamo l'Apotecari. Che è quello che fa le pozioni. Abbiamo Master Ugan Forge. Possiamo forgiare e rendere uno di questi un Fabbro. Il Fabbro lo faccio fare al Barut. Questo qui. Perché secondo me lui può fare il Fabbro. Gli fa forza più uno. Confermo. E lui sarà il nostro Fabbro. E con la qualità di Fabbro potrà fare delle prime armi. Che poi potremo anche espandere. Onestamente ho un grande dubbio. Su questo gioco. Solo uno. Che magari qualcuno di voi potrà rispondermi. Non so se questo gioco onestamente ha una storia. Cioè. O lo dobbiamo vivere alla sandbox. Al momento è quello che sto facendo. Grazie per avermi portato. Ok. Abbiamo preso 15 monete. Lo dobbiamo portare al mercato. Questo è il mercato. Dove si va ad acquistare la roba. Questo è quello che abbiamo salvato. E tra l'altro. Penso ci possa vendere anche qualcosa. No. Però gli altri si. Possiamo anche rubare. Rubando ovviamente rischiamo di. Se non abbiamo un lato. Non abbiamo qualcuno in grado di farlo. C'è il rischio di farci beccare. Quindi aumentare la nostra. Il nostro essere ricercati. Questo sembra essere. è il rischio di farci beccare. Non ho risposto a caso. Senza. 10 crown. Gli do. Gli faccio mangiare. saranno bene spesi ok non ho letto probabilmente ci ha rubato roba per noi comunque abbiamo anche la possibilità poi di andare a equipaggiare altre armi raccolte ragazzi War Tales sembra davvero molto promettente quindi fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e alla prossima e ciao ciao grazie